Berrettini veramente il re del tennis giocato, infatti pensate che vince contro Krajnovic all'ATP Queens batte in finale questo serbo numero 48 del mondo dopo la piacevole vittoria che si verifica in quel di Stoccarda è il secondo torneo di fila che viene ad essere vinto proprio da Berrettini vi ricordo che a partire già da domani 20 giugno del 2022 sarà il numero 11 della classifica ATP eppure qualcuno storceva il naso, qualcuno non era sicuro che andasse nel modo di cui Pocanzi vi ho annunciato e invece ecco che Berrettini sciocca tutti, turba tra virgolette ma in realtà non turba nessuno perché secondo me gran parte delle persone sapevano che andava a finire così Krajnovic viene ad essere battuto da Berrettini Berrettini vince l'ATP Queens in due set 7 a 5 e 6 a 4 si tratta del secondo trionfo di fila consecutivo per il Berlazzurro grazie a tutti utenti di Youtube, un saluto caro da un narratore italiano grazie a tutti Grazie.